buon pomeriggio ad alessandro allocca la repubblica con sede a londra alessandro ciao e bentrovato grazie buon pomeriggio a te buon pomeriggio a voi il titolo è quello che vedi anche tu qui in sovrimpressione insomma proprio sotto di noi la brexit e ci sta avvicinando all'irlanda e ci sta allontanando ma questo lo sapevamo già dal in generale dal regno unito e dal dall'inghilterra questo perché sostanzialmente succede che il traffico merci qui prendiamo la francia come punto di riferimento come paese punto di riferimento dell'europa francia e irlanda siamo su euronews.com è aumentato del 476 per cento mi vende a pensare che cosa succede invece di passare dalla gran bretagna si passa dall'irlanda magari insomma si non so se si non so se costa un po di più questo diciamo cambio insomma di interlocutore dal punto di vista commerciale ma è evidente che insomma in questo momento l'irlanda è decisamente molto più vicina a noi europa di quanto lo fosse prima sì in realtà è una questione puramente di comodità come non si tratta di costi dato che l'accordo raggiunto tra londra e bruxelles siglato a fine dell'anno 2020 che ovviamente va a regolare tutti i rapporti attuali e futuri tra i due territori uk e i 27 stati membri non prevede dazi di nessun genere però prevede tantissime scartoffie che devono comunque compilare i tantissimi camion che normalmente partivano dalla francia o anche dall'olanda comunque dagli altri territori confinanti per entrare all'interno del regno unito o anche al contrario uscire dal regno unito verso gli altri 27 stati membri ok non ci sono i dazi ci sono però come ti dicevo queste scartoffie che comunque fanno allungare i tempi molte aziende da dhl amazon hanno comunque deciso di mettere un piccolo una piccola sovrattasta per ogni singolo prodotto acquistato sovrattasta che prova a cadere a ricadere sul sull'utente finale però questo è un altro discorso perché l'irlanda sta traendo vantaggio da questa situazione come dicevo era semplicemente una questione di pura comodità perché per entrare nel regno unito adesso dalla francia si è deciso di passare verso l'irlanda e quindi salire per l'irlanda del nord dove ancora c'è la possibilità di importare merci nel paese in questa maniera passando per dublino o rosler a un altro dei porti molto oggettonati in questo periodo dell'irlanda non ci sono scartoffie da compilare da parte dei camionisti perché ovviamente l'irlanda fa ancora parte dell'unione europea o meglio farà sempre parte perché l'irlanda che non fa parte del regno unito bensì all'irlanda del nord sempre rimanendo nel gioco dei numeri i direttori dei singoli porti sia quello quelli francesi di chebourg e dank e quelli irlandesi di dublino e rosler hanno confermato che nel medesimo periodo gennaio 2000 il trasporto attraverso i loro traghetti era di circa 3.000 camion su base mensile solo nel gennaio del 2021 si è passati addirittura 9.000 camion trasportati da tre traghetti che attraversavano questo tratto di mare che stiamo vedendo adesso in grafica si è passati tre a settimana si è passati addirittura 15 a settimana quindi due al giorno due al giorno due al giorno beh pazzesca come 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 cambiamento a livello appunto numerico ci fa capire esattamente che cosa sta succedendo quindi insomma un po da una parte c'è la comodità insomma le famose scartoffie che citavi che insomma non sono più da scartoffiare nel momento in cui si utilizza questo percorso alternativo e inevitabilmente poi si vanno a cercare a individuare quelli che possono essere anche possibile inaspettati come appunto viene scritto nel titolo vantaggi economici a livello appunto di porti irlandesi qui insomma sempre qua si fa riferimento a calè ea rotterdam come punti di partenza come porti di partenza come vedete c'è proprio la gran bretagna che non viene neanche considerata viene attraversata da questi da questi passaggi insomma da questi trasferimenti e con buona pace insomma con con londra c'è anche il caso dell'irlanda del nord qui dato che insomma siamo con un collaboratore di repubblica mostro anche il titolo che ci mostra oggi appunto il quotidiano online brexit caos alla dogana le esportazioni della gran bretagna crollano del 69 per cento sempre procedure burocratiche con lui che creano disagi a non finire da aprile viene spiegato quando scattano i controlli anche per l'import la situazione potrebbe anche peggiorare qui ci ricolleghiamo all'irlanda del nord che citavi tu poco fa alessandro che si sente sempre più abbandonata che poi peraltro l'irlanda del nord è stato uno dei temi chiave della trattativa della della brexit insomma l'area di pesca che bisognava decidere un po che fine avrebbe fatto nel momento in cui la brexit sarebbe stata operativa sì confermato perché l'irlanda del nord è un po la figlia diciamo minore un po più sfortunatella insieme al galles del regno unito mentre la scozia comunque gode di una sua economia dei suoi vantaggi e infatti è da tanto che si parla di un'indipendenza all'interno del confine della scozia c'è stato un primo referendum ancor prima della brexit però si era deciso di rimanere nel regno unito adesso questa sorta di distacco da londra sta prendendo sempre più piede anche in irlanda del nord nel galles perché comunque stanno vedendo che i vantaggi di questa brexit in un certo senso non è che ci sono soprattutto per questi piccoli territori dove mentre a londra come si può ben immaginare l'economia è basata comunque sulla finanza sul turismo sul settore immobiliare ma in piccoli territori come l'irlanda che è il l'argomento centrale adesso si l'economia si basava sulla pesca si basava per l'appunto su il traffico merci che arrivavano dall'unione europea attraverso l'irlanda ma adesso con la questione della brexit con la questione della chiusura delle frontiere con queste tantissime scartoffe che dicevamo prima ovviamente le altre aziende provenienti dai dai 27 stati membri camion 27 dei stati membri e anche le acque territoriali di pesca hanno deciso in un certo senso di curare i propri interessi giustamente e di bypassare alcuni problemi che sono nati tra questo accordo tra londra e bruxelles chi ne sta traendo svantaggi e per l'appunto l'irlanda nel nord anche se non c'è quel confine fisico di cui tanto si è parlato e fortunatamente evitato perché altrimenti si sarebbe tornati a una situazione tra irlanda del nord e irlanda anche di rischi politici dovuti ricordiamo a le famose ripercussioni politiche sociali e religiose di decenni fa quindi si è evitato il confine fisico però allo stesso tempo non si sono evitati o meglio non si sono abbandaggiati quelli che sarebbero potuti essere tutte quelle piccole economie che avrebbero portato per l'appunto una salute economica l'irlanda del nord londra in un certo senso ha ragionato da regno unito ma non ha calcolato come dicevamo tutti questi svantaggi che si vanno a creare per i singoli territori più piccoli soprattutto a proposito di micro economia c'è un altro giro di affari che è in sofferenza e potrebbe insomma soffrire ancora di più nel manno che da qui insomma ai prossimi giorni perché è un mercato stimato di un miliardo e 400 milioni di euro un miliardo e 200 milioni di sterline l'anno e che come detto insomma su questo su questo segmento non c'è stato alcun accordo non come detto lo stiamo dicendo adesso non c'è stato nessun accordo tra regno unito e e bruxelles stiamo parlando di un segmento particolare e cioè quello che riguarda la musica alessandro e questa è una notizia anche anche abbastanza curiosa per quanto sono ovviamente preoccupante si curiosa e delicata allo stesso tempo perché come anticipato se riguarda per l'appunto l'aspetto della musica che quasi nessuno ci faceva caso ci fa caso perché adesso siamo in un periodo di lockdown dove tutti gli eventi sono stati bloccati ma in realtà per i musicisti italiani prendendo in considerazione quindi la nostra italia era comunque normale venire a suonare a londra o anche in altri territori parlo di vocelli di zucchero ma anche per i giovani musicisti che cercavano di venire a trovare fortuna a londra nei vari pub tutto questo adesso si stoppa con gravi disagi sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista economico parlavi giustamente del valore di questo mercato a livello annuale che supera il miliardo di sterline o in euro questo perché con l'uscita del regno unito dall'unione europea si è bloccato anche la libera movimentazione delle persone la libera circolazione delle persone quindi qualsiasi persona vuole entrare nel regno unito deve comunque entrare o dal punto di vista turistico ma se entra dal punto di vista del lavoro quindi anche come musicista deve ottenere un visto che costa sui 250 sterline e per un giovane musicista è comunque un peso notevole da sopportare ma anche in caso un piccolo locale un pub che vuol chiamare un artista italiano rocker italiano avrebbe comunque un costo importante ma l'altra parte della medaglia della della medaglia chi ha la peggio in tutta questa situazione è proprio il regno unito perché gli artisti del regno unito qualora volessero girare per l'europa per i 27 stati membri sia come tourney parliamo dei grandi artisti o anche come dicevo prima del singolo artista devono fare visti per ogni singolo paese che vanno a visitare che entrano dal punto di vista lavorativo musicale quindi immaginiamoci il giovane artista che vuole andare a in spagna in germania in italia prima di un suo live deve comunque richiedere un visto con un costo medio di 90 euro a paese una grande produzione se lo può permettere ma immaginiamoci il singolo artista come dicevo prima il quello che qui viene chiamato il buskers l'artista di strada quanto può andare a incidere dal punto di vista economico sulla sua carriera oltre ovviamente poi a chiudere a mettere un confine vero tra l'espressione musicale il melting pop l'influenza tipica che può portare il regno unito verso l'europa e l'europa verso il regno unito mi vende a domani mi vende a chiedere se insomma questi protagonisti che si ritrovano loro malgrado in negativo insomma della per la situazione sono gli stessi che hanno votato sì usciamo dalla dare dalla dell'unione europea anche se qui correggimi se sbaglio mi sembra di ricordare che la maggior parte delle dei voti a favore dell'uscita erano arrivati da da un target diciamo non dico anziano però piuttosto maturo insomma per semplificare i giovani volevano rimanere e i meno giovani quindi più anziani volevano uscire però non sto andando a memoria quindi correggimi se sbaglio no no è giusta l'analisi tecnica è giusta anche numerica e di percentuale per quanto riguarda chi ha votato per rimanere chi per uscire se invece volessimo dare un'interpretazione più culturale mettiamola così dal punto di vista musicale quindi del rock del pop diciamo della musica di massa tutti i grandi artisti o anche più piccoli artisti hanno votato per rimanere se invece parliamo di alcuni scrittori ben pensanti di una categoria di inglesi diciamo maturi allo stesso tempo di una di un di un livello un po up loro hanno votato per uscire dalla dall'unione europea ti faccio un esempio tra tutti david attembra che è il documentarista più celebre della bbc è uno dei più famosi a livello mondiale lui non ha mai nascosto anche pubblicamente la sua la sua scelta di aver votato sulla per la brexit a favore della brexit quindi di un distacco dall'unione europea mentre invece parlando appunto parlavi citavi gli artisti musicali insomma famosi o meno quindi da elton john al più all'ultimo gruppo che magari si è esibito appunto in un pub underground insomma di che si esibiva perché come detto giustamente tu adesso tutto fermo in linea di massima erano a favore del remain insomma rimaniamo nell'unione elton john ti faccio questo esempio nel suo ultimo uno dei suoi ultimi concerti prima della della chiusura della torna europea lo ha tenuto all'arena di verona in italia e proprio lì fece una dichiarazione italia vi amo italia vi voglio bene ci dispiace che ci stiamo staccando da voi ed è stato davvero un messaggio molto bello che ha voluto lanciare agli italiani ma in realtà l'ha lanciato a tutti gli europei ha scelto proprio la storica arena di verona l'italia per fare questo messaggio prima di salutarci alessandro stavo monitorando anche un po le notizie che arrivano dal regno unito per quanto concerne la distribuzione dei vaccini il regno unito sappiamo che insomma è vero che fa parte dei cinque paesi più colpiti ma è anche uno dei paesi che insomma sta provvedendo a una veloce distribuzione e acquisto dei vaccini astrazeneca in primis vedevo come comunque si stia facendo largo l'ipotesi della terza dose contro le varianti richiamo che avrebbe somministrato in auti un autunno con versioni aggiornate dell'antidoto un antidoto 2.0 diciamo così poi per 2022 londra penso a una vaccinazione annuale come quella influenzale si vede la differenza tra la campagna covid inglese e quella italiana insomma è evidente d'altronde noi siamo completamente completamente fermi con la sperimentazione per combinare anche due vaccini differenti varie notizie per tornare da te alessandro e capire un po qual è la situazione anche dal punto di vista della vita quotidiana che c'è a londra e in generale il regno unito dove ancora vige un lockdown abbastanza importante sì il lockdown andrà avanti ancora per tutto il mese di febbraio con le prime revisioni da parte del governo i primi prima settimana di marzo per capire se proseguire con il lockdown alleggerirlo addirittura renderlo ancora più stringente però più stringente di questo non c'è nulla perché il lockdown che stiamo vivendo è esattamente il primo che avete vissuto voi in italia per quanto riguarda i vaccini ricerca degli ultimi giorni risultati hanno dato che il problema non è più semplicemente il coronavirus quanto ovviamente le varianti che si sono sviluppate nel corso degli ultimi mesi in particolar modo quella sudafricana e il vaccino dell'astra zeneca sembrerebbe efficace solo al 10 per cento su alcune particolari varianti che si sono a loro volta sviluppate sulla variante sudafricana una cosa abbastanza tecnica particolare quindi ecco perché si parlava di un vaccino 2.0 di un richiamo un terzo richiamo da effettuare nella nell'autunno subito dopo l'estate a coloro che hanno in questi mesi ottenuto il primo la prima dose e il successivo richiamo dal punto di vista numerico sono state superate le 11 milioni di vaccinazioni non c'è problema di rifornimento stanno arrivando sia quelli di astra zeneca ma addirittura è arrivato anche l'ordine del quarto vaccino autorizzato nel regno unito che è il novavax quindi in un certo senso da questo punto di vista ci sentiamo sicuri nel regno unito nella campagna vaccinale un po meno sicuri sull'efficacia dei vaccini dal punto di vista di queste varianti che comunque è difficile stargli dietro alessandro locca repubblica londra grazie per essere stato qui con noi come sempre buon lavoro a presto grazie a te giacomo a voi alla prossima